Diamo ora il benvenuto a Jacques Bousquet, direttore generale Renault Italia. La prima domanda che vorrei fare non è nella sua veste di direttore generale Renault, ma di presidente dell'Unrae. Che cosa chiedete al governo italiano? Soldi indirettamente, ma concretamente? Infatti chiediamo due cose. La prima è di capire bene la situazione del mercato dell'auto in Italia. Magari avremo quest'anno un livello di mercato il più basso da 40 anni, quindi vuol dire che strutturalmente c'è un problema per sostenere questo mercato, anche le business modelle di questo mercato. Il secondo punto è un ascolto alle proposte che abbiamo fatto già dall'estate scorso, dove abbiamo proposto un discorso di supporto al mercato dell'auto, dove si deve puntare al rinnovo del parco, perché è di ciò che parliamo, un parco molto anziano in Italia, con un supporto all'acquisto di vetture a motorizzazione alternativi. E naturalmente avrà il vantaggio di portare sulle strade dell'Italia delle vetture che consumano di meno, che inquinano di meno. Quindi c'è modo di rilanciare il mercato, almeno parzialmente, mettendo insieme le proposte di innovazione intelligente che portano sul mercato i costruttori. E speriamo di essere ascoltati tra poco, perché veramente quest'anno sarà molto difficile sul mercato. Bene, torniamo ora a Renault. 2011, tutto sommato, non è andato male. Quali sono stati i punti di forza del 2011 per la Renault? Noi abbiamo potuto appoggiarci su tre pilastri che hanno fatto il successo recentemente delle gamme Renault e Dacia. Uno è il cuore delle gamme Renault, che tradizionalmente gira attorno alla famiglia Megane e alla famiglia Scenic. Sono le vetture che funzionano bene, che piacciono molto in Europa e particolarmente in Italia. Il secondo pilastro sono i veicoli commerciali. Non dimentichiamo che tutta questa parte del business è molto importante per i costruttori. E lì abbiamo una buona posizione, siamo nel terzo gruppo in Italia, il primo in Europa. È stato un pilastro molto importante. E il terzo naturalmente che ha trovato il suo spazio su un mercato molto difficile è la gamma Dacia, che veramente ha fatto colpo. Abbiamo un modello come il Dacia Duster, che veramente ha trovato uno spazio molto importante dappertutto in Italia e dappertutto in Europa. E questi tre pilastri ci hanno permesso di avere un buon equilibrio di performance nel 2011, che infatti è stato già un mercato di livello insufficiente per avere un grande sorriso. Voi avete, forse per primi, puntato all'elettrico. Ci avete creduto da subito. È stato un parto forse un po' difficile, ma ora finalmente cominciamo a vedere l'elettrico nelle concessionarie. Dal mese di dicembre si possono comprare le vetture elettriche della gamma Renault con i primi tre modelli che abbiamo previsto di commercializzare, che sono la Renault Fluence, che sono il veicolo commerciale Kangoo. Siamo l'unico costruttore che finora aveva avuto l'idea di proporre un veicolo commerciale elettrico. E la novità assoluta che è il modello Twizy, che è un quadriciclo elettrico che piacerà molto ai più giovani di noi. Dal mese di aprile avremo di nuovo da tutti i concessionari Renault in Italia un numero sufficiente di queste vetture per fare delle prove su strada. È lì che sarà veramente il momento chiave per il pubblico italiano di mettersi in contatto con questi veicoli, fare delle prove su strada, capire quali sono queste tecnologie, capire che queste vetture sono delle vetture normali, direi, a parte che hanno una motorizzazione diversa, che non inquina e non fa rumore. Ecco, il compresso è oltretutto molto interessante perché la Twizy, per esempio, viene commercializzata molto meno che 10.000 euro e credo che in quella categoria sia unica innanzitutto e anche quella che costa di meno. Infatti abbiamo voluto dall'inizio del programma, che adesso è nato 3-4 anni fa, sviluppare un prodotto veramente innovante per aprire un nuovo segmento di mobilità individuale che possa puntare sull'innovazione in termini di concetto, di design e anche appoggiarsi su questa tecnologia completamente nuova che è quella della motorizzazione elettrica. Passiamo ora all'endotermico. Due restyling e una finalmente grande novità che è la nuova Clio, che tanti anni che c'è la Clio sul mercato e ha fatto dei numeri strabilianti. Giusto, noi abbiamo intrapreso questo rinnovo della nostra gamma centrale del marchio Renault con la Megane tre anni fa. Poi quest'anno siamo arrivati con una fase 2 del modello Twingo, che per noi è molto emblematico. Twingo fa parte del DNA, adesso è la marchio Renault. E andiamo avanti quest'anno con, alla fine di quest'anno, una Clio completamente nuova, completamente differente, molto moderna, molto attraente in termini di design. E su questo puntiamo naturalmente per aggiungere, direi, un quarto pilastro ai tre che avevo indicato prima. Ultima domanda. Siamo alle porte di Ginevra, che secondo me è il più bel salone a livello mondiale, e dove in genere le case presentano le novità di tutto l'anno. Che cosa ci può dare un'anticipazione, cosa vedremo a Ginevra? Certo, avremo due novità molto importanti per noi. Uno per il marchio Dacia, avremo la nuova Dacia Loggi, che marca l'entrata del marchio Dacia sul segmento dei monovolumi, quindi le vetture per le famiglie, è un passo molto importante per questo marchio che sta crescendo molto ogni mese. E il secondo modello molto importante per il marchio Renault, questa volta, sarà il quarto modello della gamma elettrica, come previsto, lo presenteremo quest'anno, nel 2012, e sarà la Renault Zoe, che è una berlina piccola della dimensione di una Clio, completamente elettrica, e che sicuramente sarà dall'anno 2013 la vettura elettrica la più venduta in Italia. Bene, ringraziamo quindi Jacques Busquet, direttore generale di Renault Italia, e ci vediamo sicuramente a Ginevra.